Pasta integrale, zucchine grigliate, bresaola, melanzane grigliate. In una bolla iniziamo a mescolare un po' di zucchine grigliate, qualche fetta di melanzane con olio e limone. Aggiungiamo poi la pasta alla bresaola, poi metà pomodoro cuore di bue e dei pomodorini datterini. Ecco! E infine un paio di cucchiai di carote cotte al gopore. E voilà! Insalata di pasta pronta. Buon appetito a tutti, alla prossima! E spero che vi sia piaciuto, è veramente un'idea veloce, fresca. Io avevo già le verdure grigliate, però è ovvio, dovete soltanto al massimo grigliare le verdure e poi unire il tutto. Ciao!